Siamo in Valle Dupo, sempre a cavallo Farrar Valtrompia e la Valsabbia, comune di Lodrino, ai confini con Casto sostanzialmente, il centro sportivo appunto di Valle Dupo, tiro al piattello e il titolare Fabrizio Muzio. Questo centro sportivo è molto bello, molto vasto, molto grande. Funziona bene? Sì, buongiorno a tutti. Come ha detto, sono Fabrizio, uno dei gestori del tiro a volo, poligono, ristorante Valle Dupo. Siamo qua in realtà molto grande. Noi pratichiamo diverse discipline, sempre con le armi, fra cui il tiro al piattello, la forza olimpica, il percorso caccia, che si chiama più tecnico e compact. Abbiamo anche delle posizioni, delle postazioni per effettuare il tiro con la carabina e pistole, arma corta, arma lunga, rigata, insomma con ottica, senza ottica. Tutto in questo, a mio parere, bellissimo contesto naturale, in mezzo al verde. Poi, che dire anche, possiamo dire che nel nostro centro sportivo c'è anche la possibilità da mangiare bene. Abbiamo anche un ottimo ristorante, pizzeria, bar, per dare comunque tutto quello che serve alla gente che viene a divertirsi in questo campo. A divertirsi con le armi, con i fucili, con quelle proprie attrezzature sportive a questo punto. Quindi, chiunque viene, quali sono i clienti più affezionati? Sì, chiunque può venire. Abbiamo una varietà di clientela che va dal professionista, che può venire ad allenarsi, a fare anche delle manifestazioni, delle gare che facciamo sul nostro campo, ma abbiamo anche un buon pacchetto di, diciamo, persone che vengono a divertirsi proprio per la passione che hanno con le armi e anche tantissimi cacciatori, perché noi effettuiamo anche le tarature delle ottiche, effettuiamo comunque la taratura delle carabine, cerchiamo comunque da dare un servizio a 360 gradi al cliente, cioè consigliamo anche dove andare all'acquisto o alla riparazione o comunque a sistemare le proprie armi per il proprio divertimento, la propria passione. Qui le società sportive, i gruppi possono organizzare e organizzano dei loro incontri, delle loro manifestazioni, delle loro gare, oltre che voi stessi le organizzate? Sì, assolutamente, ci sono le associazioni di cacciatori, associazioni sportive e ci tengo a dire con particolare orgoglio, organizziamo diverse gare e manifestazioni a sfondo per beneficenza, insomma. Qui chi viene deve evidentemente, come dire, contribuire con una quota? Sì, ci sono dei costi che sono la serie, che tu paghi la serie dei piattelli, che ha un costo di 8 euro, poi ci sono ovviamente l'acquisto delle munizioni e noi forniamo anche un servizio di noleggio armi, che ovviamente a chi può maneggiare l'arma è a servizio gratuito, cioè noi diamo delle armi che le aziende ci forniscono per poterle testare, per farle provare alla gente, è un servizio che piace parecchio a chi viene da noi. Evidentemente bisogna avere il porto d'armi, cioè non c'è una possibilità di manifestazioni e gare a chi non ha il porto d'armi? No, nelle manifestazioni no, non c'è possibilità, allora c'è una possibilità in determinate situazioni dove la gente può avvicinarsi al piattello provando sul campo le armi anche non avendo il porto d'armi e da noi abbiamo realizzato una forma assicurativa che con un direttore di tiro in pedana determinate situazioni possono fare delle prove di tiro per avvicinarsi al mondo sportivo, quello che è diciamo il tiro a volo. Consigliamo questo centro sportivo anche agli appassionati naturalmente di caccia, agli appassionati di armi, ma anche a gruppi familiari che volessero trascorrere una giornata all'aria aperta, certo avete detto prima di un ristorante, avete detto prima di possibilità di passeggiate qui nei dintorni, sotto di voi c'è la pista di motocross, quindi siamo in una zona nella quale lo sport è a tempo pieno. Assolutamente sì, questo è un po' stato il nostro, diciamo, la nostra idea iniziale che era quella da dare la possibilità all'appassionato di questa attività sportiva da potersi portare anche alla famiglia a presso, cioè avere anche una situazione dove la moglie piuttosto che i bambini possono avere anche loro qualche cosa da poter fare, diciamo, durante la giornata che oltre che alla ristorazione c'è anche la possibilità da far giocare i bambini o comunque leggere un buon libro tranquillamente su un divano, piuttosto che avvicinarsi alle nostre passeggiate nei nostri boschi. Ci sono la pista di motocross, abbiamo detto, più avanti c'è, ci sono le ferrate, il parco delle fucine, comunque ci sono tanti sentieri che circondano questa valle e danno possibilità insomma a divertirsi o comunque a passare del tempo piacevole per tutti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!